Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della serie Pensieri. Oggi è il turno di Super Mario 3D World per Switch, commercializzato sulla piccola ibrida di Nintendo a partire dal 12 febbraio 2021. In realtà 3D World non è un gioco nuovo, sbarcava su Wii U nel lontano 2013. Ma quella console, lo sappiamo, non è stata un successo per la casa giapponese, e così l'azienda sta pian pianino riportando sulla ben più fortunata Switch tutti quei suoi giochi che in passato non hanno avuto alcuna chance di raggiungere un pubblico ampio. Switch, come detto, è un successo commerciale enorme, e quindi Nintendo sta continuando a spremere a fondo la sua gallina dalle uova d'oro. Ora, la cosa positiva di questa operazione che potremmo definire tra virgolette nostalgico remix, oltre appunto al fatto di consentire a più giocatori di provare con mano le tante perle e non sviluppate in passato dalla casa nipponica è che per ognuno di quei giochi fa arrivare su Switch versioni in qualche modo migliorate rispetto alle originali. In primis, e questo vale anche per 3D World, tutti i vari porting hanno avuto aumenti di risoluzione per arrivare al Full HD e miglioramenti nel framerate. E poi Nintendo nelle versioni per Switch ha sempre incluso tutti i contenuti add-on rilasciati nel tempo e spesso, come vedremo anche tra poco per 3D World, ha aggiunto nuove modalità di gioco. Lo abbiamo visto con Mario Kart 8 Deluxe che su Switch ha tutti DLC, oppure con Donkey Kong Country Tropical Freeze che su Switch ha il personaggio Funky Kong giocabile, o ancora New Super Mario Bros. U Deluxe con la combo Picette e Toadette e il DLC New Super Luigi U incluso. E lo stesso vale per tutti gli altri titoli Nintendo portati man mano nel tempo su Switch. In 3D World in particolare è stata affiancata al gioco base una nuova campagna, Bowser's Fury, che è fondamentalmente un gioco a sé che in qualche modo miscela le caratteristiche della campagna originale di 3D World con il gameplay di Super Mario Odyssey. Ma ci torneremo tra pochissimo. Il port aggiunge inoltre la modalità multiplayer online, la funzionalità amiibo per generare potenziamenti, la funzione snapshot per scattare screenshot in-game e la modalità co-op a 4 giocatori anche nei livelli di Captain Toad. Super Mario 3D World è un gioco a piattaforme sviluppato e pubblicato da Nintendo ed è il sesto gioco 3D della serie Super Mario, sequel di Super Mario 3D Land per Nintendo 3DS. Il gioco segue Mario e i due suoi amici che tentano di salvare creature simili a Fate, chiamate Sprixis, da Bowser, il quale ha invaso il loro regno. Il gameplay è simile ai precedenti episodi della serie, con i giocatori che dovranno superare i vari livelli fino alla battaglia finale. La vera novità di 3D World è il power-up chiamato Super Bell che trasforma il personaggio scelto dal giocatore in un gatto consentendogli di arrampicarsi sui muri ed utilizzare attacchi a graffio. Come sempre, la trama nei giochi di Super Mario è molto relativa, ma comunque qui tutto comincia quando Mario, Luigi, Peach e Toad vengono attratti da un tubo di vetro inclinato che spunta dal suolo mentre stanno guardando uno spettacolo pirotecnico. Dopo che Mario e Luigi riparano questo tubo, appare una principessa simile ad una fata che gli avverte che Bowser ha rapito ed intrappolato tutte le altre principesse Sprixie in giare di vetro. Dopodiché arriva Bowser stesso, che cattura anche l'ultima principessa per poi fuggire attraverso il tubo. A quel punto i nostri eroi si lanciano all'inseguimento attraverso lo Sprixie Kingdom per liberare tutte le Sprixies. I livelli di gioco sono simili a quelli di Super Mario 3D Land e combinano il gameplay libero dei giochi 3D della serie Super Mario con le meccaniche di quelli a scorrimento 2D, con il classico timer entro cui raggiungere la bandiera di fine livello. In 3D World fino a 4 giocatori simultanei possono controllare i personaggi Mario, Luigi, Peach e Toad nonché la sbloccabile Rosalina. Ovviamente ogni personaggio ha abilità uniche e va controllato in modo differente. Mario ha una velocità di corsa ed un'altezza di salto bilanciate, Luigi salta più in alto e cade più lentamente ma scivola di più, Peach può saltare e fluttuare brevemente in aria ma corre lentamente, Toad corre più veloce di tutti ma non salta molto in alto e cade giù più velocemente. Infine Rosalina ha una mossa di attacco esclusiva ma è quella che corre più lenta di tutti. Prima di ogni livello il giocatore può selezionare il personaggio da utilizzare e fino a 4 giocatori possono esplorare lo stesso livello in contemporanea, condividendo un pool di vite. I giocatori possono raccogliere, trasportare e lanciare gli altri compagni di gioco. Quando si gioca in multiplayer ci si aiuta a vicenda ma allo stesso tempo si gareggia per fare un punteggio superiore a quello degli altri giocatori. Riprendendo lo stile tipico dei giochi Super Mario, i livelli sono accessibili tramite una mappa del mondo in cui i giocatori possono girovagare per passare da un livello all'altro e per accedere ad aree nascoste e guadagnare più oggetti o monete. Ogni livello contiene 3 stelle verdi collezionabili necessarie per sbloccare alcuni dei livelli successivi, ed ogni livello principale contiene un timbro nascosto che sblocca un adesivo collezionabile adesivi un tempo destinati al servizio mini-verts ormai defunto. Ulteriori stelle verdi possono essere guadagnate nei livelli Captain Toad o in altri livelli speciali. In 3D World sono presenti alcuni elementi dei capitoli precedenti, come il fiore di fuoco, la superfoglia, il mega fungo, eccetera, ma ci sono anche tanti nuovi power-up. Abbiamo già parlato del Super Bell, che dà al giocatore un vestito da gatto che consente di correre più velocemente, eseguire attacchi unici e salire sui muri per raggiungere nuove aree. Poi c'è una variante di questa campanella che permette al giocatore di trasformare temporaneamente il proprio personaggio in una statua da gatto fortunato che regala monete. Ci sono le doppie ciliegie che permettono di clonare il personaggio in uso, che quindi può agire su più fronti contemporaneamente. Più doppie ciliegie vengono catturate e più cloni appariranno. I giocatori possono poi indossare i cannon boxes che sparano colpi a nemici, o i light blocks che possono sconfiggere i fantasmi, o ancora le maschere goomba che permettono di confondersi con i goomba nemici. Nei vari quadri di gioco non mancano oggetti come bombe, pale da baseball, e piante piranha che possono essere utilizzati per sconfiggere i nemici o risolvere i puzzle. E ci sono scarpe da pattinaggio e persino un dinosauro acquatico chiamato plessi che possono essere utilizzati in specifici livelli. Infine, il gioco è compatibile con il touchscreen di Switch e con il giroscopio presente nei Jocon e nel Pro Controller, utili per controllare una manina che consente di rivelare blocchi o oggetti nascosti, ostacolare i nemici, attivare meccanismi particolari e via discorrendo. Super Mario 3D World è stato acclamato dalla critica per il level design, la presentazione, la colonna sonora e la rigiocabilità dei livelli. La cosa che è stata considerata meno riuscita è invece la gestione della camera nella modalità multiplayer. Per quanto riguarda Bowser's Fury, invece, bisogna aprire un capitolo a parte, perché, come dicevo, è a tutti gli effetti un gioco a parte inserito nello stesso pacchetto di 3D World. Infatti, è possibile avviare Bowser's Fury anche se non si è mai avviato 3D World e, anzi, proprio all'avvio del gioco l'utente può scegliere quale dei due giochi avviare. La nuova campagna segue Mario mentre finisce in un luogo chiamato Lago Lapket e deve fare squadra con Bowser Jr. per fermare Bowser che è stato trasformato da una sostanza color rinchiostro in una mega furia. A differenza di 3D World, Bowser's Fury si svolge in una grande area libera simile a giochi Open World di Super Mario come Odyssey. Mario dovrà esplorare varie isole per recuperare i cut shines. Bowser Jr., che può essere controllato da un secondo giocatore, può assistere Mario utilizzando il suo pennello per attaccare i nemici e rivelare i segreti. Ogni tanto, Bowser si risveglierà e comincerà ad attaccare modificando le isole stesse. Raccogliendo i cut shines, Mario potrà sbloccare la Giga Bell, una versione enorme della Super Bell che trasforma Mario in Giga Cat Mario affinché egli possa affrontare Bowser. Ora, come il mio solito, voglio riportarvi quelli che, secondo me, sono i 3 Pro ed i 3 Contro di questa conversione per Switch, e partirei dagli aspetti positivi. 1 Super Mario World, sì proprio lui quello dell'epoca Super Nintendo, è secondo me il miglior gioco in assoluto della saga di Super Mario. E adoro i gatti! 3D World riprende molti elementi di quel gioco e li combina con le trovate di 3D Land per 3DS, aggiungendo anche tanti elementi divertenti ed il co-op locale ed online. Nonché tanta, tra virgolette, felinità. A differenza di Odyssey, che punta tutto sul single player in cambio di mondi esplorabili a 360 gradi in libertà, oppure di New Super Mario Bros. U che mantiene lo stile 2D tradizionale ma che purtroppo non esalta più di tanto, 3D World incolla lo schermo con livelli molto curati, tutti basati su elementi chiave particolari ed unici, e ricchi di segreti da scovare con la possibilità di affrontare ogni sfida con più personaggi oppure in compagnia. Il tutto con una varietà incredibile di idee. 2 Al già interessantissimo pacchetto base, Nintendo ha aggiunto la nuova campagna Bowser's Fury che porta con sé almeno un'altra decina di ore di gioco da sommare alle praticamente illimitate grazie all'alta rigiocabilità e varietà della campagna principale. Inoltre, il gameplay in Bowser's Fury è molto simile a quello di 3D World ma allo stesso tempo è completamente differente per via dell'approccio simile open world. E la cosa bella è che le due modalità, seppur così diverse, riescono a coesistere magnificamente. E ho già detto che ci sono gatti o riferimenti al mondo felino ovunque? 3 Il porting di 3D World su Switch gira in modo eccelso 1080p a 60fps in modalità dogged e 720p a 60fps in quella portatile. Bowser's Fury purtroppo non riesce a raggiungere le stesse performance, puntando sulla risoluzione dinamica che arriva fino al 1080p in dogged e 720p in portatile, e bloccando il framerate a 30fps. Ora, ad essere onesti, la cosa non si nota più di tanto. Il gioco è sì meno fluido di Odyssey ad esempio, ma in puro stile Nintendo la cosa si dimentica istantaneamente perdendosi nel gameplay sempre divertente e piacevole. Ripartendo proprio da questo punto, le cose che mi hanno colpito meno sono 1. Proprio il limite su risoluzione e framerate dell'espansione Bowser's Fury un po' sorprende. Odyssey ad esempio fa molto meglio, e forse potevano essere studiate soluzioni differenti per garantire prestazioni migliori anche in Bowser's Fury. La principale differenza tra Odyssey e questo nuovo add-on per 3D World è il fatto che la mappa con le varie isole di Bowser's Fury è unica, mentre in Odyssey ogni mondo è a sé, spesso con sezioni separate. Inoltre, il furente Bowser ogni tanto lancia palle infuocate ed in quei momenti di caos c'è una pioggia bella fitta. Ecco, la piccola Switch probabilmente non è in grado di reggere appieno questi elementi. 2. Giocare oggi a Super Mario 3D World tira fuori i limiti di un gameplay pensato qualche anno fa. I livelli sono visti sempre da prospettive fisse, anche se ogni tanto la camera può essere leggermente spostata a sinistra o a destra ma nulla più, e generalmente c'è una profondità limitata. Tutto ruota attorno ad un percorso da seguire, con un po' di spazio per muoversi all'interno di tale percorso. E tutto ciò crea qualche problema quando si gioca in co-op, con alcuni livelli che non funzionano alla perfezione se giocati in 4. Anche le transizioni tra una parte e l'altra dei livelli o delle mappe sono meno dinamiche rispetto a quelle di altri capitoli della saga come Super Mario Galaxy in cui, per esempio, si parte letteralmente a razzo dalla superficie del mondo in cui ci si trova e si sfreccia nello spazio, girando e roteando e raccogliendo starbeats nel mentre. In 3D World si entra in scatole e poi si esce da altre scatole poste altrove. Stop! Al più si scorre attraverso dei tubi in vetro, un effetto retro che ricorda i primi capitoli 2D della saga. Parlando di multiplayer, invece, beh, non acquisterei il gioco per tale funzionalità. Non l'ho giocata molto, è vero, ma quel poco che ho visto non mi ha colpito. E penso che, complessivamente ed in assoluto, i giochi di Super Mario funzionino meglio in single player o al massimo in co-op a due in locale. 3. Il titolo viene venduto ad un prezzo di 59.99€. Io l'ho acquistato per 49.98€ su Amazon, preordinandolo mesi fa. Ecco, secondo me il prezzo corretto è proprio quest'ultimo, intorno a 50€ o anche meno. Ok la bellezza di 3D World e ok la campagna aggiuntiva, ma stiamo pur sempre parlando di un gioco di 8 anni fa che è stato rispolverato o poco più e rimesso in vendita. Nintendo avrebbe potuto forse fare qualcosa in più per migliorare il multiplayer, magari studiando livelli ad hoc, oppure cambiare alcune dinamiche del gioco, si è scelto di non fare nulla di tutto ciò e spostare queste cose nell'add-on che è però un gioco a sé, per cui se trovate il titolo a 50€ o meno e siete appassionati di Super Mario, non lasciatevelo sfuggire, altrimenti aspettate un po' prima di acquistarlo. Secondo me ne vale davvero la pena. E voi che ne pensate di Super Mario 3D World più Bowser's Fury? Ci avete già giocato anni fa? Gli darete una rigiocata? Oppure non ne avevate mai sentito parlare prima? Siete interessati anche solo alla nuova campagna? Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra a riguardo. Io intanto torno a giocare con questo splendido capitolo della saga di Mario, vi saluto e spero che abbiate trovato utile questo video. Ci sentiamo presto, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.